...delle ore 9.20 per Venezia-Santa Lucia e i partenzi sono in coda al treno. Il treno è da nuova velocità, non è da nuova, 12, delle ore 9.17, proveniente da Napoli centrale e diverto a Donino-Porta Nuova e il cammino al binario 9. Attenzione! Malotta nasce dalla prima demons, la mia è stata in coda al treno. ...delle ore 9.20 per Venezia-Santa Lucia e i partenzi sono in coda di Napoli. ...delle ore 9.20 per Venezia-Santa Lucia e il cammino al binario 9.20 per Venezia-Santa Lucia e i partenzi sono in coda di Napoli. Il treno ha la velocità a Francia-Rossa, domanda 5 e 15, i treni d'Italia, e le ore 9 e 14, per Salerno, e il partenza indicato dal binario 12. .